Ha in corso in varie regioni d'Italia un maxi sequestro di beni immobili ed immobili da parte della Polizia Tributaria di Napoli. Il decreto emesso da giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura riguarda 58 soggetti operanti nel settore del calcio professionistico, tra cui calciatori, procuratori e dirigenti di società sportive, che tra il 2009 e il 2013 avrebbero evaso il fisco per oltre 12 milioni di euro. Nella operazione cui stanno prendendo parte diversi reparti della Guardia di Finanza, anche perquisizioni e indagini documentali e bancarie per fare luce sul sistema messo in atto da 35 società sportive di Serie A per evadere le imposte in particolare durante le compravendite dei calciatori. L'illecito adottato dagli indagati avrebbe tutelato gli interessi degli atleti simulando che l'opera di intermediazione fosse resa nell'interesse esclusivo dei club. Le società approfittavano però dell'indebito vantaggio per dedurre dal reddito imponibile tutte le spese beneficiando altresì della detrazione dell'imposto sul valore aggiunto relativa alla pseudoprestazione ricevuta in esclusiva. Alcuni agenti argentini mediante documentazione fittizia avrebbero società schermo con sede in paradisi fiscali distraendo i compensi tassabili localizzavano i proventi delle varie attività. Un giro di evasione che ha portato a un sequestro patrimoniale cautelativo per le casse dello Stato dove dovranno rientrare i soldi sottratti.